E' venuto a fare il vaccino? Ha deciso di farlo? Altro che. Non vedevo l'ora. Sono contento di essere qui e farlo. Per stare più tranquillo poi? Sicuramente. Per me e per gli altri. Anziani in fila al pala Carneroli di Urbino e al Codma di Rosciano Afano, dove continua la campagna di vaccinazione agli over 80, iniziata sabato scorso. In ciascun comune, dalle 8 alle 20, sono state somministrate circa 340 dosi e tutto procede come previsto e senza disagi. Domani e mercoledì si proseguirà il centro sociale della Celletta a Pesaro. E' andata bene in tutte e tre le sedi. Devo ringraziare anche Marche Nord perché gli infermieri di Pesaro e del Codma sono dati da Marche Nord. Quindi stiamo lavorando insieme. Quindi diciamo sta procedendo abbastanza bene. I piccoli disguidi che ci sono stati, tipo mettere insieme le fiale, eccetera, è stato risolto e quindi non abbiamo più avuto assembramenti. Per le persone non autosufficienti, che quindi non riescono a recarsi nei vari punti di somministrazione, che cosa farete? Allora, le persone non autosufficienti, ultraottantenni chiaramente in questo momento, ma poi dovremmo pensare anche alle persone fragili perché non sono soltanto gli ultraottantenni a domicilio. Finalmente a livello ministeriale è stato firmato l'accordo con la medicina generale, quindi di concerto con il medico del medico generale ci richieremo a domicilio, come stiamo facendo per le strutture residenziali. Quindi insieme al medico del medico generale, i nostri operatori, che sono rappresentati dall'infermiere, dall'amministrativo che deve caricare i dati delle vaccinazioni, ci richieremo a domicilio per vaccinare tutte le persone che per qualche motivo non sono potute recare nei nostri centri vaccinali. La regione deve ancora deliberare, precisa Magnoni, ma è probabile che questa attività inizi durante la somministrazione della seconda dose. Intanto proseguono i vaccini ai 3.000 pazienti ricoverati nelle strutture residenziali. Qui si pensa di terminare il piano entro la prima settimana di marzo. Il direttore dell'area Vasta 1 ha poi ringraziato tutti gli operatori per l'impegno profuso. Stanno dimostrando uno spirito di allegazione molto molto importante. Non guardano l'orario di lavoro, ma si recano anche perché ha visto la mattina che siamo alle 7 e mezza. Quindi per un operatore che ha fatto il turno anche il giorno prima è pesante. Speriamo che tutto quello che sta verificando per gli ultratantenni si verifichi anche per quelli sotto 80 anni, in maniera tale da riuscire a vaccinare la maggior parte possibile della popolazione, che è l'unico sistema che abbiamo per contrastare questa pandemia molto molto seria che ancora ci sta perseguitando. Rimane fondamentale arrivare con la modulistica già compilata? Sì, ribadiamo il concetto che un grosso supporto viene dal fatto che le persone che devono essere vaccinate vengano già con i moduli precompilati. È importante anche che arrivino negli orari giusti perché altrimenti rischiamo degli assembramenti. Quindi mi raccomando, le persone devono venire qui a vaccinarsi nel fasce di orario in cui sono state convocate.